Via libera definitivo dal governo Schifani all'intera copertura finanziaria di 372 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. Con una delibera approvata oggi dalla Giunta, su proposta dell'assessore alla salute, Giovanna Volo, ed elaborata dal Dipartimento per la pianificazione strategica, si assegnano, infatti, altri 24 milioni di euro che si vanno ad aggiungere ai 300 milioni già assegnati dalla Regione con fondi EXART 20 legge 67-88 e ai 48 milioni assicurati dall'ASP di Siracusa. Adesso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dice il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, può procedere all'approvazione del progetto definitivo. Il nuovo ospedale è strategico per tutta l'area del Siracusano e il mio governo ha mantenuto l'impegno assunto con la comunità, intervenendo ulteriormente per garantire le somme aggiuntive dovute alla lievitazione del 70% dei costi rispetto a quanto originariamente previsto. Vogliamo dotare il territorio di un'infrastruttura sanitaria moderna e funzionale per assicurare servizi adeguati. 300 mila euro per i lavori di riorganizzazione funzionale e sistemazione dello svincolo autostradale che collega Bagheria alla 19. Questa la somma destinata all'opera dalla Regione Siciliana, in base alla rimodulazione dei fondi del programma operativo complementare 2014-2020 deliberata dalla Giunta regionale nella seduta di oggi. Su proposta dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Alessandro Aricò, il governo Schifani, infatti, con il benestare del Dipartimento della Programmazione, ha approvato una riprogrammazione delle risorse su diverse azioni dell'asse 3 del POC, per complessivi 2,3 milioni di euro. Oltre ai 300 mila euro per lo svincolo di Bagheria, sono stati destinati 160 mila euro per gli interventi di messa in sicurezza delle vie interessate dalla gara podistica del Campionato Italiano Paralimpico 2024 a Canicattì, nell'Agrigentino, nel Messinese, 1 milione 193 mila euro per lavori nel porto di Sant'Agata di Militello e 650 mila euro per il completamento delle opere foranee e sui fondali nell'ambito della riqualificazione di Scalo Galera, a Malfa, nell'isola di Salina, alle Eolie. Dall'impiego dei fondi utilizzati per il rifacimento delle strade per il Giro d'Italia 2022, inoltre, è stato verificato un residuo di 279 mila euro che l'assessorato alle infrastrutture potrà utilizzare per la copertura di una perizia di variante riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva per il consolidamento e la ricostruzione del ponte sul torrente del Mela, sulla strada provinciale 75B tra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, così come richiesto dal Dipartimento. Regionale Tecnico, abbiamo individuato le risorse per portare a termine alcune opere importanti per i trasporti della nostra isola, afferma l'assessore alle infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò. I nostri dipartimenti hanno proposto la rimodulazione di alcune voci di spesa, mobilitando nel complesso circa 2,5 milioni di euro che ci consentiranno di dare risposte concrete ai territori che da tempo attendono questi interventi. E' stata pubblicata la graduatoria dei beneficiari del bonus affitti 2022, una misura cruciale di sostegno economico per le famiglie siciliane. Quest'anno sono stati assegnati 17.953 contributi, con un importo medio di 1.175 euro ciascuno, per un totale di oltre 21 milioni di euro. E' una misura di dignità sociale, dice il presidente della regione Renato Schifani, che abbiamo promosso con grande impegno. È rivolta alle famiglie siciliane che si trovano in condizioni di maggiore fragilità economica, garantendo un sostegno concreto per affrontare le difficoltà legate all'abitare. Questa iniziativa rappresenta non solo un aiuto finanziario, ma anche un segnale di attenzione e solidarietà verso chi è più vulnerabile. Continueremo a lavorare affinché nessuna famiglia siciliana si senta abbandonata, e per promuovere politiche che favoriscano l'inclusione e il benessere sociale. Grazie al supporto del governo Meloni che ha aumentato la dotazione finanziaria di 4 milioni di euro rispetto all'anno scorso, commenta l'assessore regionale alle infrastrutture. Alessandro Aricò, quest'anno siamo riusciti a erogare bonus per oltre 21 milioni di euro, sostenendo 17.953 famiglie. Questa misura non solo fornisce un supporto vitale per chi è in difficoltà, ma contribuisce anche a stimolare l'economia locale, fungendo da importante strumento antirecessivo. Garantire un tetto sicuro e accessibile ai cittadini significa anche promuovere la stabilità sociale ed economica del nostro territorio. Il 14 novembre mattina il direttore generale della protezione civile siciliana, Salvo Cocina, con il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha visitato i luoghi più colpiti dal nubifraggio del 13 novembre. Erano presenti funzionari della protezione civile nazionale e regionale, il dirigente comunale dell'area protezione civile Nicola Russo, componenti della giunta e del consiglio comunale, i carabinieri e la polizia locale. Cocina ha incontrato amministratori, volontari e cittadini colpiti per un primo esame della situazione e per verificare le criticità emerse. Innanzitutto pensiamo a quello che è stato scongiurato sotto una pioggia così forte e violenta. Il giorno prima è stata data una preallerta, il sistema era stato attivato e i sindaci e i volontari hanno lavorato benissimo. Il territorio ha retto bene e non ci sono state vittime, ha evidenziato il direttore Cocina. Il territorio è stato colpito pesantemente e siamo qui oggi per vedere i danni e i presupposti per lo stato di emergenza di cui riferirò al presidente Schifani. Si passerà alla stima dei danni e alla rimozione delle eventuali situazioni di pericolo, questo è un territorio vulnerabilissimo, da un primo esame fatto alle opere realizzate dopo l'alluvione del B95 devo dire che hanno aiutato e questo programma va completato, partendo dai fiumi. I sopralluoghi che hanno interessato il quartiere di San Cosmo, la zona della timpa interessata dalla Frana e Capomulini saranno utili a fare una stima dei danni e dei primi interventi necessari di ripristino delle infrastrutture e di messa in sicurezza dei luoghi. Ringraziamo la protezione civile regionale e nazionale, che si sono subito attivate e che oggi sono presenti nei comuni danneggiati. Abbiamo discusso e valutato le criticità sul nostro territorio e cerchiamo di avere la possibilità di intervenire programmaticamente, in modo da evitare in futuro quello che abbiamo vissuto. Dobbiamo tuttavia riconoscere che è stato un fenomeno molto intenso e violento, ben oltre quello che ci aspettavamo. Ringrazio quanti tra ieri e oggi hanno dato una mano, anche mettendosi a rischio. Adesso la protezione civile regionale e la protezione civile locale procederanno a elaborare la stima dei danni e auspichiamo che il governo riconosca lo stato di emergenza. La regione siciliana chiederà al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza nazionale, della durata di un anno, per i danni causati dal maltempo di ottobre sull'isola di Stromboli, nel comune di Lipari. Lo ha deliberato, oggi, il governo Schifani nel corso della seduta di giunta. Secondo una parziale stima della protezione civile regionale, l'importo dei danni e dei primi interventi necessari alla mitigazione dei rischi ammonta a 5 milioni di euro. Il governo regionale, dichiara il presidente, Renato Schifani, continua a essere vicino alla comunità di Stromboli, tenendo ben presenti le gravi difficoltà in cui da tempo ormai si trovano gli abitanti e le aziende. Per questo motivo, abbiamo fatto nostra la richiesta del comune di Lipari per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Stiamo già intervenendo per le situazioni più urgenti ma la situazione che si è venuta a creare sull'isola è ormai strutturale e richiede un intervento a livello nazionale. I primi lavori di somma urgenza a Stromboli e nella frazione di Ginostra sono stati già avviati con la dichiarazione dello stato di emergenza regionale per sei mesi, deliberata dalla giunta nella seduta del 21 ottobre. Per questi, e per altre opere nelle zone più colpite dal maltempo del mese scorso, sono stati stanziati 2,8 milioni di euro. È entrata in vigore l'area pedonale Sciuti, via Pacini, via Filippo Corridoni, piazza Giuseppe Sciuti, via Galvagna, via Candio, via Gemmellaro. Nel tratto compreso tra via Candio e via Costarelli, via Costarelli e via del Toscano con via Spampinato in pieno centro storico, spazi in parte già interdette al traffico veicolare, ma continuamente violate per l'assenza di rilevatori elettronici. Per rendere effettiva e non solo virtuale la nuova area pedonale, la giunta Trantino ha deliberato l'installazione di 5 barchi elettronici con i relativi provvedimenti di circolazione. In dettaglio, le telecamere di rilevazione video digitale, adesso in preesercizio con le sanzioni che potranno scattare solo tra un mese, sono state posizionate nei seguenti punti. Via Filippo Corridoni. Grazie a tutti.